Un incendio divampato nel pomeriggio di giovedì 10 agosto intorno alle 14 al poligono militare a San Carlo Canavese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di San Maurizio Canavese. Non è la prima volta che divampi un incendio starpaglie al poligono chiuso da tempo, ancor più ora in considerazione delle temperature. Non si esclude in ogni caso che possa avere matrice dolosa, gli accertamenti sono in corso. Grazie a tutti.